Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo su Minecraft come promesso dallo sposto e pisato su GTA Andatelo a vedere Allora, questo è il mio due costruzioni principali, questa l'ho fatta grazie a tutorial e questa l'ho fatta da solo Poi faremo il tutorial Ora andiamo subito alla costruzione di oggi che sarebbe una casa sull'albero Allora, fate un quadrato 4x4 E lo realzate di 9 blocchi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 e 9 Poi lo fate su tutti i blocchi Ora ci vedremo quando l'avremo finito Eccoci, abbiamo fatto Ora dovete prendere queste, cioè le foglie di quercia Dovete mettere un blocco e poi dovete sparpagliarle a caso Ora lo faremo Stop Ci vediamo a dopo Eccoci tornati, abbiamo finito Abbiamo messo le foglie, anche se è un po' bruttina Poi la venderemo Ora metteremo la porta Qui Poi per salire non metteremo le scarapioli Ma metteremo le arrampicanti Così per dare un po' più di fretta Ok, ora siamo arrivati Abbiamo il blocco qua E ci mettiamo le foglie Perché se no non possiamo entrare Ecco Poi abbiamo un blocco di classe Buttiamo qua Buttiamo qua no Poi facciamo una specie di balcone Allora prendiamo legno lavorato Quello Le assi di legno di quercia e quello di betulla Poi facciamo diciamo una O Facciamo una O La allarghiamo di due Così Poi Così Poi in mezzo a questa O Ci mettiamo quello più scuro Per dare l'effetto E ecco qua Così viene bene Scusate per il rumore Ma stanno facendo Stanno parlando Nei Stop studi Eccoci di nuovo Abbiamo Abbiamo preso la roba che ci serviva Scusate per il rumore Ma qui Cioè Siamo nella mia stanza Allora Poi mettiamo questa recensione intorno Che sarebbe tipo un cartone Poi Ai lati Metteremo il letto Che ora renderemo Aspetta Non si li mette Poi qui metteremo le fornaci Metteremo le fornaci E sopra le fornaci metteremo le torce Aspetta Qua non ci vuole Metteremo le torce Le torce Ok Poi Per illuminare Poi Qua rompiamo E mettiamo il letto Si può dormire Quindi E torniamo per fare il giorno Se non si vede Ecco qua Poi scendiamo Poi scendiamo E tanto per abbellire Prendiamo di nuovo Le rampicanti E le mettiamo Qui Che poi le rampicanti Che poi le rampicanti Si allungheranno E così Si allungheranno Ve lo dovete togliere Oppure le tenete Poi per abbellire Poi per abbellire il tutto Per abbellire il tutto Ci metterete un quadro E non mettere Allora abbiamo Mettere un altro mondo Dove facciamo le prove Delle costruzioni E abbiamo messo qua Che è bellissimo Ora vediamo Se ci esce di nuovo Dove facciamo Ecco è cresciuto La rampicanti Ve lo avete visto Va bene Oggi è tutto Ci vediamo al prossimo Edo di Minecraft Ciao Ciao